Un'autostrada digitale per fornire servizi ultraveloci nelle aree industriali e artigianali di Prato. È quanto fanno Tiscali ed Estracom che portano la fibra ottica fino a 10 giga nelle aree produttive del distretto tessile. La transizione ecologica che fa scuola, Estra e ITS Energia Ambiente di Colle Valdelsa lanciano il nuovo percorso per le competenze trasversali e l'orientamento per gli studenti delle superiori di tutta Italia. Interporto Green. Su tutti i tetti dell'interporto della Toscana Centrale con la partnership di Estra, dal prossimo anno saranno installati pannelli che produrranno 2,8 milioni di kilowattora di energia green. Nuova illuminazione al campo della Zenit, società di calcio pratese. L'intervento realizzato da Estraclima ha previsto l'installazione di nuovi fari all'avanguardia per le sei torri faro che circondano il campo. Grazie a tutti.